All'ufficio del giudice di pace ci saranno dipendenti comunali con funzione di cancelliere così da salvare la sede sarnese dal rischio di chiusura. Quattro persone che a turno saranno dislocate per sopperire ad una carenza importante. E questa la novità introdotta con un atto deliberativo della giunta Canfora. Dopo le vibranti proteste degli avvocati, le numerose richieste di interventi urgenti ed il rischio evidente di chiusura, si cerca di assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria. La mancanza del cancelliere ha di fatto, nei mesi scorsi, rallentato le attività al punto che la classe forense si è mobilitata avviando una raccolta di firme da presentare al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Canfora ha spiegato che il comune di Sarno sopperirà a questa mancanza garantendo la presenza di quattro dipendenti comunali di categoria D e C e che svolgeranno un corso di formazione per esercitare le funzioni di cancelliere.